La conferenza stampa dei Verdi Calabria è la casa delle culture di Cosenza. Si è parlato della libertà di stampa ma anche delle prossime europee attraverso la presenza del leader nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, candidato al Parlamento europeo. E se ne è parlato anche assieme agli altri tre candidati, Elisa Giusi Romano, Francesco Cucunato e Francesca Mazzotti. Noi pensiamo che ci sia necessità di una svolta ecologista per portare le ragioni del lavoro, della conversione ecologica e di fare in modo che si contrastino tutte le forme di legalità. Nel Sud ad esempio, ma come in altre parti d'Italia, c'è da combattere una seconda mafia che è la faccia della stessa medaglia, che si chiama clientelismo politico, che ruba e rapina le aspirazioni della gente del Sud e in particolar modo dei giovani. Bonelli ha parlato di un'Europa verde, la Green Europa, votata la Green Economy. Un'Europa green significa quello che è stato fatto in altri paesi d'Europa, ad esempio la Germania, dove i Verdi sono stati i protagonisti della svolta e dello sviluppo economico di quel paese. Ad esempio, significa un piano energetico basato sulle rinnovabili, l'efficienza energetica, dicendo no a centrali a carbone che vorrebbero realizzare, ad esempio, qui in Calabria, come a saline ioniche, che portano tanti problemi all'agricoltura e alla salute. Grazie. 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 Grazie.